ciao a tutti ragazzi dal vostro icefreedom e benvenuti o bentornati sul mio canale allora sono quasi alla fine del livello volga e questa volta spero veramente di prendere il trofeo relativo a duke che è quello di duke sopravvive allora ho fatto solo buone azioni sto facendo la run a ranger difficile per il trofeo difficoltà suprema e niente ho lasciato un casino di cose sulla mappa ho fatto solo l'essenziale alla chiesa non ho ucciso nessuno mi ha dato l'azione positiva ho liberato il tipo nella gabbia dove c'è la torre dove c'è anche la chitarra è dato l'azione positiva e poi ho liberato gli schiavi quelli nell'edificio che viene indicato da duke quando lo incontriamo lì nel vagone cisterna che lui è lì e basta il resto ho fatto tutto normale e adesso sono qua andiamo a vedere se si sblocca sto trofeo anche qua in questa parte qua finale non ho ucciso nessuno stordito nessuno vai momento dalla verità ci siamo andati via con voi ed è stata katia a chiederci di poter venire con voi Certo. Prima uccidete i tagliacole e poi passate a noi. Non è così? Ucciderete anche gli anziani e i bambini? Avete già bevuto abbastanza sangue? Andatevene per sempre. Dio vi puglierà per i vostri peccati. Ma invece io devo prendermi il fuga del mio grigio. Tutti sono giù. Ascoltatemi fratelli! Non dovete sparare! Vi avete sentito tutti? Chiunque di voi sparerà verrà scomunicato! Eh, c'è già qualcosa di diverso dalla run che ho fatto precedentemente. Qua il tipo ha dato l'ordine di non sparare. Invece nella run precedente aveva dato l'ordine di sparare. Eh, Duke è di qua con me. Pronto a saltare sul treno. Siamo sul treno tutti e due, ufficiale. Nella run precedente no, non era così. Duke è rimasto su col vecchio. Guardalo qua. Bella. Sono contento. Mi sono tolto la soddisfazione. Adesso andiamo avanti. Andiamo a fare il prossimo che è Damir. Vi farò sapere, ragazzi. Statevi bene. Al prossimo video. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao. Grazie a tutti.